un esempio che mi piace molto è quello dell'atletica quello che gli atleti, quelli veri, cercano di fare è battere il proprio personal best questo è quello che fanno cioè il tizio che fa i 100 metri Marcel Jacobs oppure Tamberi che salta lui è in lotta contro il miglior Marcel Jacobs degli ultimi anni cioè vuole battere il suo record è questo il punto quella è la cosa sana per cui quando è in mezzo a tutti gli altri non è che sta pensando ah c'è questo dietro di me, devo andare più veloce di lui no, sta pensando che devo andare più veloce possibile per battere il mio record quello è il punto, quella è la cosa anche perché il paragone sportivo regge proprio perché non si tratta di un gioco a somma zero quello dell'imprenditoria così come dell'università cioè non è che vinci tu e perde un altro se noi stessimo giocando a tennis se io vinco tu devi perdere quindi io posso anche giocare male ma l'importante è che tu giochi peggio di me nel campo invece di dell'università del lavoro eccetera non è un gioco a somma zero il fatto che io possa vincere in una certa carriera non toglie niente a te e viceversa per cui non ha senso stare lì a vedere chi vince e chi perde quello che conta è cercare di fare il meglio che puoi e fare un piano per migliorare costantemente quindi l'ambizione l'ambizione e la competizione le rivolgi verso l'interno quando riesci a fare quella cosa lì ti sblocchi da questa idea del confronto tossico cosa fanno quanti esami ha dato il mio compagno che media ha la mia compagna chi se ne fotte non è importante non te lo chiederà nessuno fra dieci anni non te lo ricorderai neanche più quello che ti ricorderai è dove eri ieri e dove sei oggi questo te lo ricorderai del tuo compagno c'è quell'altro che ha una macchina più bella di te e quindi chi se ne frega cioè le cose cambiano e a volte cambiano anche in fretta io sono la dimostrazione di come si possa cambiare un'esistenza relativamente in fretta quindi insomma c'è tanto da lavorare o guardare se stessi questa è la cosa importante quindi andare esatto quindi comunque combattere tra virgolette ma per in confronto a quello che magari è l'anno scorso in confronto a quello esatto 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 quando io ho una brutta settimana perché capita di avere una brutta settimana improduttiva non ci voglia di fare un cazzo non è che io penso ah c'è Lorenzo che mi batte io penso cavolo potrei far meglio di così capito cioè è questo il punto non ho nessun tipo ecco se c'è un un sentimento negativo che io proprio non ho è l'invidia non non me ne frega niente di quello che fanno gli altri anzi vai bene ma buon per te sono stra contento cioè proprio non non mi interessa non vorrei la vita di nessun altro e non mi interessano i risultati di nessun altro se non nella misura in cui da quei risultati io posso imparare qualcosa allora sì hai applicato una strategia interessante la studio e vedo se posso applicarla anch'io questo sicuramente però a livello di gara di competizione non mi frega niente ma infatti quando ne parlavo con un altro quando sto facendo un'altra intervista eravamo cascati proprio su questo argomento della competizione e quello che dicevamo è proprio questo nel senso di di non avere il confronto tossico ma anzi se lui sta andando bene aspetta fammi vedere cosa ha fatto cosa sta facendo di bene che mi aiuta a me in qualche modo perché anche io posso crescere a quel punto prendendo spunto essendo ispirato guardando appunto le strategie che utilizza eccetera eccetera vedi prenderla più in senso positivo che è un po' Grazie a tutti.